avevo sentito raccontare la morte di mio zio Olivier sapevo che proprio nei momenti in cui stava per spegnerci dolcemente tranquillamente nell'ombra della sua grande stanza con le finestre chiuse al forte sole di luglio nel mezzo del soffocante silenzio di quell'infuocato pomeriggio estivo si udì nella strada il suono argentino d'un campanello poi una voce chiara attraversò quella fosa ai torpi d'atmosfera coco coco fresco rinfrescatevi signore coco coco chi vuole il coco mio zio si mosse appena qualcosa di simile all'affiorare di un sorriso mosse le sue labbra un'ultima gaiezza brillò nei suoi occhi che poco dopo si sarebbero io assistevo all'apertura del testamento naturalmente mio cugino Jacques ereditava la fortuna del padre al mio come ricordo erano destinati alcuni mobili l'ultima clausola riguardava me eccola a mio nipote Pierre lascio il manoscritto composto di più fogli che troverete nel cassetto sinistro della mia scrivania e in più 500 franchi perché si compiere il primo fucile da caccia e 100 franchi che dovrà consegnare da parte mia il primo venditore di coco che incontrerà vi fu una stupefazione generale il manoscritto mi venne consegnato il manoscritto che mi venne consegnato mi dette la spiegazione di questo lascito sorprendente lo ricopio testualmente l'uomo è sempre stato schiavo delle superstizioni una volta era diffusa la credenza che si accendeva a una stella ogni volta che veniva al mondo un bambino che seguiva le vicessitudini della sua vita segnalando i momenti felici con uno splendore più vivo e le sciagure col suo affievolimento crediamo all'influenza delle comete agli anni bisestili del venerdì e del numero 13 immaginiamo che alcune persone abbiano la facoltà di fare malefici e cattiva sorte diciamo ogni volta che incontro il tale mi capita una disgrazia tutto ciò è vero si credo mi spiego meglio non credo all'influenza occulta delle cose o degli esseri ma credo a un caso ben preordinato è certo casuale che avvenimenti importanti siano accaduti mentre le comete apparivano nel nostro cielo o mentre correvano anni bisestili è casuale che certe sciagure siano avvenute di venerdì o in coincidenza col numero 13 e che la presenza di determinate persone sia stata concomitante al riaccadimento di certi fatti di qui sono nate le superstizioni derivano da un'osservazione vaga superficiale che vede le causali nelle coincidenze e non prosegue nella ricerca ora la mia stella propizia la mia cometa il mio venerdì il mio numero 13 il mio iettatore è sicuramente un venditore di bibite il giorno in cui sono nato mi hanno detto ce n'è stato uno che si è sgolato per tutta la giornata sotto le nostre finestre a otto anni mentre andavo a fare una passeggiata con la governante agli Champs-Élysées e stavamo attraversando il largo viale uno di questi venditori ambulanti fece squillare il campanellino alle mie spalle la tata stava osservando un reggimento che sfilava in lontananza io mi ero voltato per vedere il venditore di coco fresco lei mi tirava in avanti e io facevo resistenza assorto ad ascoltare il campanellino una carrozza con tiro a due lucente e rapida come un fulmine ci venne addosso il cocchiere si mise a gridare ma né io né la governante lo sentimmo all'improvviso mi sentii sbalzato in alia capovolto sbattuto e mi trovai non so come tra le braccia del venditore di bibite che per riconfortarmi mi mise la bocca sotto il rubinetto lo aprì mi spruzzò d'acqua e così mi fece riprendere conoscenza la tata aveva il naso rotto anche se continuò a guardare reggimenti i reggimenti non la degnarono più d'attenzione a sedici anni alla vigilia dell'apertura della caccia avevo appena comperato il mio primo fucile e mi stavo dirigendo verso l'ufficio della dirigenza dando il braccio alla mia vecchia mamma che camminava molto lentamente a causa dei reumatismi d'improvviso sento gridare alle nostre spalle coco 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 fresco la voce s'avvicina si segue ci perseguita mi pareva che quel richiamo fosse rivolto proprio a me come un affare personale come per insultarmi mi parve che quell'uomo ridesse mentre m'osservava e intanto continuava a gridare coco fresco quasi per prendermi in giro a causa del mio fucile lucido lucido del carniere nuovo dell'abito da caccia di velluto marrone senza una piega nella dirigenza mi pareva d'averlo ancora nelle orecchie il giorno dopo non presi cacciagione ma uccisi un cane che stava correndo scambiandolo per una lepre e un galletto che mi parve una pernice un uccellino si posò su una siepe sparai volò via ma un muggito tremendo mi inchiodò al terreno durò fino a quando fece buio povero me il babbo dovette pagare a un povero contadino la vacca che avevo colpito a venticinque anni vidi una mattina un vecchio mercante di coco rugoso sbilenco appena in grado di camminare appoggiandosi al bastone quasi schiacciato dal recipiente con l'acqua mi sembrò una specie di divinità il patriarca l'antenato il grande capo di tutti i venditori di bibite di questo mondo bevetti un bicchiere di coco e lo pagai venti soldi una voce profonda che sembrava uscisse dalla cassetta di ferro smaltato anziché dalla bocca dell'uomo che la portava mormorò vi porterà fortuna caro signore fu quello il giorno in cui ho conosciuto mia moglie a cui debbo tutta la mia felicità e finalmente ecco come un mercante di bibite mi impedì di diventare prefetto c'era stata una rivoluzione mi sembrò opportuno entrare nella vita pubblica ero ricco stimato conoscevo un ministro mi chiesi un colloquio indicando lo scopo della mia visita il colloquio venne fissato con estrema cortesia al giorno fissato eravamo in estate e faceva un caldo tremendo indossai un paio di pantaloni chiari con guanti e stivaletti intinta le strade bruciavano al sole i marzapiedi sembravano liquefarsi e grandi carri pieni d'acqua innaffiando il terreno al centro dei viali lo avevano trasformato in una cloaca un po' qua un po' là gli scopini pubblici ammontichiavano quella fanghiglia tiepida e in un certo senso artificiale e la spingevano verso le fogne io non facevo che pensare al colloquio e camminavo in fretta quando trovai davanti a me uno di questi rigagnoli fangosi presi lo slancio per scavalcarlo uno due un grido acuto terribile mi farò le orecchie cocco cocco chi lo vuole il cocco ebbi un moto involontario di sorpresa scivolai uno spettacolo pietoso atroce mi trovai col sedere nel fango i pantaloni erano diventati d'un marrone sospetto la camicia bianca punteggiata da macchioline di fango il cappello navigava vicino a me quella voce furiosa arrocchita dal gran gridare continuava a urlare cocco cocco avevo poi davanti una ventina di persone scosse da un riso irresistibile che facevano smorfie mentre mi contemplavano tornai a casa di corsa mi cambiai d'abito l'ora dell'appuntamento era passata da un pezzo non fui mai più ricevuto così finiva il manoscritto caro e giovane pierre cerca di farti amico un venditore di coco quanto a me me ne andrò da questo mondo felice se ne sentirò il grido al momento del trapasso il giorno dopo incontrai sugli champi di sé uno di quei venditori con la mercanzia a tracolla era vecchio molto vecchio e sembrava mal ridotto gli regalai i cento franchi dello zio trasali stupefatto e poi mi disse tante grazie giovanotto vi porterà fortuna grazie